Tornano ad aumentare le guarigioni nel comune di Torre del Greco rispetto agli ultimi giorni. Le guarigioni registrate sono infatti 17, invece sono 11 i nuovi casi di positività accertati. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Il totale degli ospedalizzati è quindi di 12 pazienti, mentre in isolamento domiciliare risultano 92 contagiati. Stanno i dati del bollettino regionale, i positivi del giorno sono 129, su un totale di 5.564 tamponi processati. I posti letto in terapia intensiva occupati ammontano a 14 e quelli occupati in degenza a 178.